C'è già stata qualche notizia o qualche richiesta in merito? Fida ieri sera in contatto col Perfetto d'Impera, al quale ho proprio rappresentato la disponibilità della Regione Liguria sia in termini di mezzi, di assistenza sanitaria, sangue e eventualmente anche per l'accoglienza dei feriti nelle strutture italiane, ovviamente i cittadini italiani. Al momento, diciamo per fortuna, non abbiamo notizie di richieste in questa direzione, evidentemente le strutture sono autosufficienti, quelle francesi, ma probabilmente andando anche avanti nelle ore, in un momento in cui anche la macchina organizzativa francese si assesta, potrebbe esserci la richiesta di aiuto. Si parla di molti bambini tra i feriti e per questo è stato anche preallertato il gas lini? Sicuramente, sono stata proprio in contatto questa mattina con la Presidenza e la Direzione Generale del Gaslini, sono pronti a ricevere anche per eventi traumatici importanti, qualsiasi esigenza occorresse il gas lini, che è il punto di riferimento anche europeo del settore pediatrico, c'è, è presente e è pronto a intervenire. E notizie su Liguri coinvolti? Al momento non ce ne sono. Grazie.